Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati 372 casi di positività al Covid-19 su un numero di tamponi tra antigenici e molecolari di 11.143, con un tasso di positività che rispetto a ieri torna a salire e si assesta al 3,3%. I 372 casi odierni sono di età compresa tra 6 mesi e 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 74, di cui 26 in provincia dell'Aquila, 17 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Più in generale circa la loro provenienza territoriale si registra un aumento di 122 per la provincia dell'Aquila, 75 per quella di Chieti, 95 per quella di Pescara e 40 per quella di Teramo. Meno 1 i casi di fuori regione aumentano di 38 quelli per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 58.323 i casi di positività al coronavirus. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra regione. 10 i pazienti deceduti per covid nelle ultime 24 ore di età compresa tra 63 e 96 anni, 5 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia di Pescara. In totale il bilancio sale a 1835. I dimessi guariti, sempre secondo l'ultimo bollettino, sono aumentati di 451 unità e sono in calo di 92 gli attualmente positivi. Circa i ricoveri scendono di 3 unità quelli ordinari, sono invariati, cioè 87, quelli in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi, mentre registra un meno 89 il numero dei positivi in isolamento domiciliare che ora è 12.477.